È arrivato il momento di parlare delle saghe che ho concluso nel 2023, video che mi piace fare ogni anno perché un po' mi aiuta a mettere un punto effettivamente alle saghe che ho letto e un po' mi dà l'impressione di aver concluso qualcosa. Cretinata a parte è un video che mi piace molto fare perché mi aiuta appunto a parlare nel completo di una saga, di dare la mia impressione insomma se il viaggio ne valsa la pena oppure no, quindi personalmente lo trovo anche un video relativamente utile e mi piace sempre riproporlo. Direi però di partire subito con una saga molto inaspettata perché è una trilogia di romance con grande sorpresa, soprattutto mia, ne ho parlato abbondantemente e ovviamente parlo della trilogia delle sorelle Brown di Talia Ibert, Get a Life Chloe Brown, Take a Hint Dani Brown e Act Your Age Yves Brown. Fa molto piacere che abbiano deciso di iniziare a chiacchierare per la tromba delle scale. Rispetto a tutte le altre saghe che farò vedere nel video si tratta di una trilogia un po' atipica perché sono romanzi interconnessi quindi non è che la storia continua da qui e arriva alla fine. Diciamo segue le tre protagoniste che sono tre sorelle quindi sì ci sono dei cameo delle parti in cui sono presenti anche le altre protagonisti però non è che c'è una trama orizzontale. Ecco in ogni libro si segue l'avventura di una delle sorelle. Questi sono i libri che mi hanno fatto ricredere sull'affermazione che non mi piacciono i romance, sono proprio il prototipo di romance che piace a me e quindi a questo punto mi sento di dire che non avevo trovato quello che faceva per me. Ovviamente la trama amorosa principale c'è e non mi dispiace se è corredata da tutta un'altra serie di elementi, di tematiche o comunque di sottotrame trattate bene, certo chiaramente nei limiti del genere, che comunque occupano la vita dei protagonisti. Quei romance in cui i protagonisti non fanno altro che farlo come Ricci e la loro unica preoccupazione è oddio ma mi pensa, oddio ma gli manco, oddio ma mi manca, oddio ma che cosa c'è. Quando ci si concentra solo e soltanto su quello io mi annoio, lo trovo un libro per me lettrice vuoto e quindi tendevo a diciamo un po' rifiutare il genere. Sono tre protagoniste ben costruite con i loro hobby, le loro personalità, ognuno ha una vita che non smette di vivere quando incontra il partner, con cui riescono a instaurare relazioni sane tra adulti che si parlano ed è così bello da leggere. E in più come scrive gli uomini Talia e Ibert nessuno. Tra i tre quello che le è uscito meglio secondo me è Zaf, che è l'interesse amoroso di Dani, quindi della sorella mediana, che forse è l'esemplare tipo uno di dieci nel mondo. Una persona, un uomo in contatto con le sue emozioni, che combatte attivamente contro la mascolinità tossica, con una grande sensibilità, un gran rispetto per le donne. Tra i protagonisti c'è sempre molta chimica che viene costruita piano piano e quindi è sempre credibile e anche alcuni troppi tipici dei romance sono inseriti a dovere, nel senso che non vengono, non li ho mai trovati forzati. È riuscita a farmi andare giù anche delle scene spinte, ripeto, non sono la mia cosa preferita. Però, però, quando appunto c'è tutto un contorno così solido, alzo le mani e mi leggo tutto, tutto. Tra tutte, Chloe di sorelle è la mia preferita, perché è la sorella maggiore, quindi mi ci rivedo di più, older sister trauma, cioè su molte cose la sento molto vicina. Tra l'altro proprio questo volume dovrebbe arrivare in italiano con il titolo Ho fatti una vita Chloe Brown il 27 febbraio, così tutti potranno leggerne. E devo solamente capire su cos'altro concentrarmi di questa autrice, perché so che quando in futuro avrò bisogno appunto di una cosa un po' più, insomma, un romance, una lettura un po' meno impegnativa, so che questa è un'autrice di cui tendenzialmente posso fidarmi. Altra saga con cui credo di aver scassato abbastanza l'anima sono, aiuto, le cronache lunari in tutta la loro bellezza. L'avevo iniziata nel novembre del 2022 leggendo il primo volume Cinder e poi l'ho continuata durante tutto il corso del 2023, l'ho finito comunque nella prima metà dell'anno e leggendo tutti appunto i volumi, tutti i seguiti. Scarlett, Cress, Winter, la novella prequel Fares, che prima o poi ce la farò a non chiamare Levana, anche se è su Levana, quindi da un lato il mio cervello ha anche ragione. E la raccolta di racconti Stars Above. Saga per ragazzi che rimangino in chiave fantascientifica le fiabbe, infatti Cinder è Cenerentolo, abbiamo Cappuccetto Rosso, Raperonzolo e Biancaneve. Non vi tenierò ulteriormente perché già ne ho parlato tantissimo nel corso del 2023, c'è appunto un video intero, completamente dedicato all'esperienza di lettura di questa saga, con tutte le mie opinioni più approfondite su ogni libro, ovviamente senza spoiler, e comunque anche nelle ultime settimane mi sembra di averne parlato moltissimo, quindi mi taccio. Ma comunque per me è stata un'avventura incredibile, sono dei libri avvincenti, con un grande senso dell'umorismo, l'adattamento sia delle trame che dei personaggi di queste fiabbe, secondo me è geniale, e una saga che si è tenuta comunque fresca, nonostante questo primo libro sia stato pubblicato ormai quasi 12 anni fa, 12, non so se... Qui mi sbilancerò e dirò che secondo me nelle top 3 delle saghe per ragazzi più solide che io abbia mai letto in vita mia, sono contentissima che finalmente sia tornata disponibile in libreria anche in Italia. Tutti questi anni di assenza per me sono ingiustificati e ingiustificabili, perché si continuano a fare edizioni su edizioni di altra roba, mentre questa saga per tanti motivi merita molta più attenzione e mi sento proprio di definirla la mia scoperta dell'acqua calda del 2023. Assolutamente a caso, perché non era minimamente ripiani, ho finito la saga di novelle del tensorato di Neon Young, leggendo le ultime 3 di 4, vabbè. Il primo volume, Le Maree Nere del Cielo, l'ho letto nel 2022 in realtà, e quindi nel 2023 ho letto I fili rossi della fortuna, Discesa tra i mostri, Ascesa alla divinità. In questo caso si parla di fantasy simpunk di ispirazione orientale, che racconta di una società in cui si nasce privi di genere, e poi eventualmente più avanti nella vita si può scegliere come faranno Ake e Mokoya, che svilupperanno i loro poteri durante il loro periodo di permanenza nel grande monastero, in cui si trovano per adempiere a una promessa fatta dalla madre. Ora, io sono molto in difficoltà nel parlare di queste novelle, perché la prima mi era molto piaciuta, e ho fatto passare quasi un anno tra la lettura della prima e della seconda, e quindi quando la seconda non mi ha entusiasmato, ho pensato che fosse una questione appunto di un lasso di tempo troppo ampio. Ecco, va detto che però il terzo e il quarto li ho letti due mesi dopo, e non è che sia andato meglio. Sarà che comunque la costruzione del mondo, il discorso sul genere, sulla religione, sulla tecnologia, che erano centrali in questa prima novella, e che erano gli elementi che ho trovato più interessanti, sono molto meno importanti, molto meno presenti nel resto della saga. E quindi mi sono mancati, proprio, cioè mi è mancato l'appiglio di interesse. Mi ha detto proprio poco, sì, ok, negli ultimi volumi, negli ultimi due, ci sono un po' di cambiamenti, anche a livello di format, che magari sì, sono un po' più interessanti. Mi ha proprio lasciato indifferente, purtroppo. Cioè, di per sé non c'è nulla di sbagliato in questi libri, sono scritti bene, tradotti bene, però sono proprio quei libri che, tempo, due mesi, proprio a dire tanto, te li si è dimenticati. Cioè, avevo questa sensazione proprio mentre li stavo leggendo, che è terribile. E l'ho fidata con delle emozioni così contrastanti, così confusa, che non saprei neanche dare un'opinione se, comunque in toto, vale la pena leggerle. Non lo so, il primo è quello appunto che mi ricordo meglio, nonostante sia passato più tempo, da quando l'ho letto, però non lo so, proprio pochi pensieri e anche confusi. Ho poi concluso anche la trilogia delle ossa verdi di Fondali, quindi Jade City, Jade War e Jade Legacy. Anche in questo caso ci troviamo davanti a un fantasy di ispirazione asiatica, in questo caso però è un urban fantasy ambientato sull'isola fittizia di Kekon, che è l'unico posto al mondo dove si può trovare la giada, che potenzia le abilità dei guerrieri ossa verdi, finché non inizierà a circolare una droga che permette a chiunque di maneggiare la giada. Allora si inaspiranno le lotte tra i due clan principali dell'isola, la montagna, e gli Zero Vette, con al capo la famiglia Kaul, i protagonisti di questa trilogia. Jade City l'ho letto a dicembre del 2022, è stata una delle ultimissime letture, e di poco non era rientrato tra i miei preferiti, mentre nel 2023 si sono proprio meritate un posto nell'Olimpo dei miei preferitissimi. Anche di questa saga ne ho parlato abbondantemente, anche in questo caso nell'ultimo periodo, però questi libri sono veramente una bomba. A partire dalla trama, che è tipo un diesel, parte piano, ma quando parte va velocissima, è fitta, intricata, stratificata, senza mai cadere in contraddizioni, buchi di trama, né mai confusionaria. Non è una di quelle saghe che vi consiglierei di leggere a cervello spento, ecco. Richiede un minimo di soglia dell'attenzione più alta, però se siete disposti a fare questo sforzo, tra virgolette, per me ne vale assolutamente la pena. Con il progredire della trilogia cresce anche la scala su cui si muovono, sia le vicende che i personaggi. Si crea una vera rete geopolitica, che coinvolge sempre più persone, paesi, città. Veramente pazzesco, soprattutto nell'ultimo volume, in cui c'è una conclusione che non avviene in due settimane, ma su un periodo di anni, che è molto credibile per i fatti che uno si trova davanti. Per non parlare dei personaggi, per me abbandonarli alla fine del terzo libro è stata una sofferenza. Mi si è spezzato il cuore. Avrei continuato a leggere la famiglia Caula, ancora e ancora, veramente ancora per migliaia di pagine. Non ho ancora accettato del tutto che sia finita. E ho finito fermamente convinta che Fondalisi ha un talento da tenere d'occhio e in futuro leggerò volentieri altro, appunto, di quello che pubblicherà. Finalmente poi sono riuscita a finire la trilogia Middle Grade di Victoria Schwab, composta da Città di Spettri, Tunnel di Ossa e Ponte di Anime, che è quello che effettivamente ho letto nel 2023. Letti uno all'anno nel periodo di Halloween, quindi 2021, 2022 e 2023, seguono le vicende di Cassidy Blake, una dodicenne che gira il mondo con i genitori, per filmare documentari sul sovrannaturale, anche se quella che effettivamente ha una connessione col sovrannaturale è proprio Cassidy, quando dopo un'esperienza premorte ha acquisito l'abilità di attraversare il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti. E da allora è accompagnato dal suo migliore amico Jacob, che è un fantasma. Non ho moltissimo da dire, devo ammetterlo, è una trilogia molto carina, perfetta per appunto il mese di ottobre, ha delle tinte un po' non horror, perché comunque è una storia per ragazzi, comunque bambini, però ecco, se appunto non ve la sentite di affrontare un horror vero e proprio, questo è molto molto soft, è ottimo per la spooky season. È una storia comunque piacevole, scorrevole, il fatto che ogni libro sia ambientato in una città diversa aiuta a non cadere nello schema ripetitivo della stessa storia in sostanza e aiuta anche col fatto che i personaggi comunque non siano mai effettivamente troppo approfonditi perché si cambia abbastanza frequentemente. L'elemento però che mi farà ricordare questa trilogia è sicuramente l'amicizia tra Cassidy e Jacob, che è molto tenera e molto molto carina, però non mi sento di definirla una trilogia che mi ha segnato. È ottima se cercate qualcosa con tinte un po' alloinesche e se siete un po' cagasotto questo secondo me è un ottimo compromesso e con questo io e vi, Schwab, siamo in un periodo di tregua, più o meno. Arrivato novembre mi sono resa conto che avevo ben tre trilogie in sospeso e quindi ho deciso di farle tutte fuori entro la fine dell'anno, fortunatamente ci sono riuscita, ma prima di parlare appunto di tutte queste trilogie vorrei mettere velocemente agli atti, che ho letto anche il prequel di Hunger Games, la ballata del blusignore e del serpente, che in teoria mi porterebbe a finire anche la saga di Hunger Games. Non sono sicura che conti, da un lato un pochino mi sento di dire di sì, è un libro che mi ha lasciato un po' perplessa, è un crescendo che finisce sul più bello, è un testare le acque per vedere se c'era ancora spazio sul mercato editoriale per Hunger Games, secondo me, almeno come l'ho percepita. Non un libro brutto, neanche un libro necessario, semplicemente così, un libro un po' confuso forse. Tornando però a parlare delle trilogie, ho finito quella dell'imperatore splendente, ho scoperto che questa è la traduzione in italiano. Il primo volume è Lei che divenne il sole, e io ho letto il seguito, He would drown the world, low fantasy che racconta la nascita reimmaginata della dinastia Ming. La mia esperienza di lettura di questi due tomi è stata drammaticamente differente, perché mentre il primo comunque mi era piaciuto molto, il secondo mi ha lasciato perplessa in diversi punti. E proprio perché la mia opinione di questi tomi è così divergente, mi trovo in difficoltà a parlare e a dare un'opinione comunque completa sulla trilogia. Ha degli ovvi lati positivi, è scritta molto bene, anzi c'è proprio una maturazione nella scrittura tra il primo e il secondo volume, i personaggi sono incredibili, sono costruiti in modo spettacolare ed è sicuramente l'elemento più centrale della trilogia. Sono personaggi grigi fino in fondo, disperati, cattivi, diretti verso il loro obiettivo e basta. In più, in generale, nella saga c'è un interessantissimo discorso sull'identità di genere. Il cambio di tono un po' più oscuro non mi ha disturbato particolarmente e anche il finale alla fine l'ho trovato giusto per i personaggi. Però ad esempio hanno un ritmo molto strano, cioè ci sono delle parti lentissime in cui va tutto pianissimo e poi improvvisamente si riparte e si va alla velocità della luce, soprattutto per esempio nel finale di questo secondo volume che comunque è il finale generale della trilogia in cui succede tutto nelle ultime cento pagine. C'è un morto per riga, è tutto molto facile, forse un po' troppo in alcuni punti e poi boh, cioè tutte le robe esplicite per me sono un po' too much. Per quanto ne capissi il senso, l'importanza all'interno appunto della storia, too much. Dopo appunto diverse volte mi ha un po' esasperato. Però sono fermamente convinta che questa trilogia beneficerebbe di una rilettura, più avanti nel tempo, con più calma, però veramente prima o poi vorrei rileggere per formarmi un'opinione più definita in un senso o nell'altro. Altra sottotrama che ho concluso è quella delle Great Cities di N.K. Jameson, The City We Became, l'ho letto a settembre, e il secondo The World We Make, l'ho letto a dicembre. trilogia per adulti che si trova a cavallo tra la fantascienza e il fantasy. Ci troviamo a New York e veniamo a sapere che ogni città ha un avatar che la protegge. Purtroppo però all'avatar di New York è successo qualcosa e quindi vengono risvegliati gli avatar di ogni quartiere che dovranno fare squadra per proteggere appunto la città da questi grandi mostri con tentacoloni che vengono da altre dimensioni. Come ha dichiarato l'autrice stessa, sono una lettera d'amore a New York, la città in cui lei vive, e sono dei libri psichedelici, elettrici, pop, estremamente intelligenti, in cui lei parla di questa sua città etereogenea, piena di contraddizioni e di problematiche sociali, la gentrificazione, il razzismo. Ho adorato i protagonisti che sono diversissimi tra di loro, ognuno in una fase diversa della loro vita, che mettono da parte le loro differenze per proteggere la città che tutti amano nonostante tutto. Per me è assolutamente un sì come si mescola il reale con il fantastico, come vengano migliorati nel corso della dilogia degli aspetti che magari nel primo avevo trovato traballanti, vengono ripresi in mano e sistemati, tra virgolette, nel secondo volume. Sicuramente una trama più solida, un mondo più esplorato. Se posso muovere, forse un'unica critica, io avrei fatto un librone di 600 pagine, anche perché appunto il primo ha un po' questa sensazione di lungo prologo, mentre il secondo è molto più denso. Magari trovando un equilibrio riusciva a uscire un libro autoconclusivo. Poi per carità, credo che comunque ci sia una storia particolare dietro alla pubblicazione di questi libri, perché inizialmente era una trilogia diventata appunto di logia, ridotta di logia. È un po' come se lei avesse voluto finire in fretta e furia questa storia, che la prima fosse uscita proprio dal cuore e che la seconda fosse un po' un dovere. Poi a me è piaciuta, quindi per carità non mi lamento assolutamente e soprattutto anche Jameson ha consolidato il suo titolo di una delle mie autrici preferite e vorrei recuperare anche le altre saghe che ha scritto, credo me ne manchino due. Quindi non ho letto la metà, ma di paranti. Poi proprio agli sgoccioli dell'anno per il rotto della cuffia sono riuscita a finire la trilogia di queste gioie violente di Chloe Gong composta appunto da queste gioie violente e questa violenta fine che è effettivamente il libro che ho letto nel 2023 e l'altro anche l'avevo letto a dicembre del 2022. Retelling Fantasy per ragazzi di Romeo e Giulietta ci troviamo in una Shanghai degli anni 20 in cui improvvisamente una malattia inizia a serpeggiare tra la popolazione e i protagonisti Roma e Giulietta devono fare squadra nonostante le differenze che li hanno divisi in passato chiamiamole differenze per capire cosa sta succedendo. Ecco diciamo che forse di questa trilogia si può fare un discorso inverso rispetto a quella precedente nel senso mentre il primo aveva dei punti forti più solidi e una trama romance un po' meno predominante il secondo è esattamente il contrario. La parte romantica non solo dei protagonisti è assolutamente centrale anche se comunque capisco insomma stiamo parlando di un retelling di Roma e Giulietta l'ambientazione però è molto meno definita la trama l'ho trovata quasi una ripetizione del primo volume i protagonisti crescono poco e anche la fine di questo secondo volume mi ha lasciato proprio cioè indifferente proprio una tristezza infinita mi sarebbe appunto piaciuto un po' più di coinvolgimento comunque trattandosi di un retelling di Roma e Giulietta invece proprio zero non me ne fregava praticamente niente poi appunto la scrittura di Chloe Gong è solida infatti io non li considero libri brutti anzi il primo l'avevo proprio considerato un libro promettente mentre questo secondo però queste promesse non le ha mantenute non lo so speravo in un finale più soddisfacente in una continuazione un po' più insomma con un po' più di verve da un lato mi piacerebbe anche leggere Immortal Longings che è appunto il primo volume della sua nuova penso trilogia in questo caso ma ha ricevuto delle recensioni molto negative soprattutto sulla trama quindi sui punti in cui io stessa ho mosso delle critiche invece a questi volumi quindi forse al momento mi fermo mi è proprio scesa impicchiata nella scala delle mie priorità vediamo comunque lei è molto giovane quindi avrà sicuramente margine di miglioramento negli anni a venire ha tutto il tempo per portare una saga solida dall'inizio alla fine bene quindi queste erano tutte le saghe che ho finito non necessariamente lette la loro interezza nel 2023 ma che comunque nel 2023 posso dire di aver chiuso io spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto se è così ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti e noi ci vediamo martedì con un nuovissimo video ciao ciao